Ragà, siete pronti per sapere i 7 errori che tutti i giocatori nuovi e non commettono su Fortnite Battle Royale? E allora, mi raccomando, guardate il video con attenzione e soprattutto guardatelo fino alla fine per non perdervi e per sapere assolutamente quali sono gli errori che sicuramente commetterete e che sono da evitare. Mi raccomando, se siete nuovi, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina delle notifiche per essere aggiornati su ogni mio contenuto. Ed ovviamente codice creatore nel negozio oggetti, Joe Trattino, X97 tutto maiuscolo, coraggio che ci mancano veramente pochissimi supportatori per arrivare ai 300. Detto questo, vi lascio al video, buona visione. E allora direi, bando alle ciance e passiamo subito col dirvi il primo errore che sicuramente molti di voi, anzi penso il 98% dei giocatori, anche dei nuovi giocatori, commettono su Fortnite. Ossia, si tratta in una situazione di 1v1, quando magari vi trovate boxati con un avversario, regà, lui sicuramente il primo istinto sarà quello di piazzare una trappola ovviamente. La cosa principale che ovviamente verrebbe ad ogni giocatore di fare è quello di rompere il muro laterale, quindi di lato a voi, sia a destra che a sinistra, e di uscire da quella situazione. Nella quale magari potreste assolutamente o prendere molto danno e quindi puoi essere facilmente killabili solamente con una hit, oppure addirittura morirci di trappola, dipende quando scudo avete. La cosa principale che voi dovete fare in quella situazione non è assolutamente rompere il muro laterale, ma è come vedete dall'immagine, editare il pavimento sottostante a voi ed immediatamente boxarvi con un tetto ed una piramide. Infatti così assolutamente la trappola non avrà nessun modo, non vi potrà in nessun modo colpire, non prenderete alcun danno ed anzi sarete voi a poter gestire la situazione magari piazzando una trappola a vostra volta, perché sicuramente l'avversario vi inseguirà. Sicuramente magari qualcuno di voi può dire ma magari il pavimento non è mio, non c'è assolutamente problema, invece di editare rompete il pavimento con il piccone e automaticamente vi boxate come se il pavimento fosse stato editato. Mi raccomando raga, non fate assolutamente questo errore, questo è pure un esempio pratico durante la partita, vedete c'era l'avversario che addirittura ha provato a fare la mongrelata mettendo la trappola. Ovviamente editando il pavimento subito il player se n'è andato evitando una situazione di potenziale pericolo. Quindi mi raccomando d'ora in poi quando vi trovate in un box con un avversario che vi vuole trappare, editato il pavimento. Il secondo errore probabilmente vi potrebbe sembrare banale, ma in realtà è uno dei più comuni che tutti voi sicuramente commettete, compreso me. Ossia aggiustare l'atterraggio, ossia aggiustare il landing, quindi probabilmente la posizione durante l'atterraggio. Infatti la mappa con l'inizio, con l'introduzione del capitolo 2 ha subito alcuni mutamenti, anche a livello proprio morfologico, lo possiamo chiamare così. Ed ovviamente alcune zone sono cambiate, ad esempio Misty Meadows è praticamente allo stesso livello del lago come vedete. L'errore che molti giocatori commettono è quello di buttarsi dal bus o troppo tardi o addirittura troppo presto. E ricordatevi che l'atterraggio è la cosa più importante che vi potrà, che vi condizionerà sicuramente il resto della partita. Se voi atterrate bene, lendate bene, potrete lutare quello che volete, avere il tempo di shieldarvi, di fare materiali e di giocarvi la vostra partita. Quindi mi raccomando, alla posizione del landing. Errore numero 3, ossia non ottimizzare i comandi sia di building che appunto di editing. Infatti molti di voi ragazzi limitano semplicemente a mettere le impostazioni default, che non sto assolutamente dicendo che questo sia sbagliato. Infatti ho fatto pure dei video di varie impostazioni che assolutamente dovete provare. Però mi raccomando raga, un conto è provare, un conto è personalizzarle per come vanno bene a voi. Infatti quando ho iniziato a giocare a Fortnite, utilizzavo quelle che erano le impostazioni default. Avete presente gli edit con i joystick in default? È veramente una cosa impossibile. Dopodiché ho preferito personalizzarle. Ho visto che l'edit con L3 mi veniva veramente semplicissimo ed ho lasciato quello. Mentre alcuni editano con il touchpad, parlando del pad, altri con il triangolo. Quindi mi raccomando, la cosa principale che dovete fare sia se siete dei nuovi player, sia magari anche se eravate abituati con le impostazioni default o comunque avevate preso spunto ad altre impostazioni, è quella di vedere realmente come vi trovate e mi raccomando personalizzatele, ottimizzatele per quello che è il vostro stile di gioco. Per le movenze che vi vengono più comode, mi raccomando. Questo è quello che hanno fatto tutti i pro player. Non hanno già preso delle impostazioni, ma le hanno magari scelte di base e poi se le sono personalizzate per diventare i giocatori più forti al mondo. Errore numero 4. Un errore veramente comunissimo, come d'altronde tutti gli altri che vi ho elencato e quelli che vi andrò a elencare. Ossia effettuare la rotation troppo tardi. Infatti, come sappiamo, raga, la safe ha un tempo in cui dopo un tot inizia a camminare la tempesta e ovviamente ad andarsi a chiudere nel cerchietto. Ovviamente, raga, questa rotation, quella che Giorgio vi ha richiamato rotation, deve assolutamente essere effettuata con una certa tempistica. A meno che non vogliate andare per le 50 kill in solo v squad, io vi consiglio, come d'altronde tutti i pro player, di cominciare a rotare verso la prossima safe quando è vicina circa un 10-15 secondi prima. Se è lontano, ovviamente anche un minuto e mezzo prima, come vedete dalle immagini, raga, dovete assolutamente cominciare a dirigervi verso la safe. A meno che appunto non vogliate giocare una partita esclusivamente per raggiungere quante più kills possibili, per magari battere un record personale o addirittura, perché no, mondiale. Ma mi raccomando, in quel caso, fightatevi se siete in safe. Altrimenti vi aiuterà pure a fare kill, effettuare la rotation, perché la maggior parte dei giocatori la rotazione l'effettuano veramente tardissimo, quasi ci arrivano all'ultimo secondo, anzi addirittura prendono pure danno. E voi, entrando prima in safe, vi potrete barricare e ovviamente hitterete e killerete tutti coloro che vedrete arrivare fuori dalla tempesta, fuori dalla zona. Quindi mi raccomando, effettuate la rotation non troppo tardi e neanche troppo presto. Mi raccomando, ricordatevi, 15 secondi se è vicina, un minuto e mezzo, anche due, dipende la lontananza. Mi raccomando, così farete kill e ovviamente vi guarderete dal prendere danno. Errore numero 5, overbuildare. Buildare senza una ragione, senza un motivo. Infatti ragazzoni, questo errore è proprio anche tecnico in quello che viene chiamato nel competitive l'overbuilding, che assolutamente è diffusissimo, sia nel competitive e non. Ovviamente, Fortnite o Battle Royale, caratterizzato appunto da quello che è il building e l'edit, che ovviamente ci piace a tutti e modestamente poi quando vedete nei video un player come me, buildare, voglio dire, vi fate gli occhi. Però, attenzione, non è sempre la cosa giusta da fare. Infatti, buildare sì è utile, però ricordatevi che lo scopo principale di ogni Battle Royale è quello appunto di killare quanti più giocatori possibili e soprattutto di salvaguardarsi la pelle. Ci sono certi momenti, certi fight, certi scontri in cui buildare è superfluo, in cui basterebbe solo o fare una cecchinata o appunto spammare ed entrare nel box, senza magari necessità di fare la mongralata. Quindi magari, esatto, vi pusciate con la mitraglietta e poi magari killate l'avversario. Assolutamente, non dico che buildare sia sbagliato, però ci sono situazioni e situazioni. Ad esempio, in questa occasione non avrebbe avuto senso distruggere la scala per poi fare la mongralata. Mentre se vi trovate in endgame, ossia con una safe magari molto molto ristretta, in cui il vostro avversario è sopra di voi, allora sì, vi direi o distruggete la costruzione, ma nella maggior parte dei casi non vi riuscirà, anzi, incominciate a buildare. Però mi raccomando, attenzione, perché certe volte, anzi, nella maggior parte dei casi, vuoi essere molto superfluo ed improduttivo. Quindi mi raccomando, non overbuildate. Errore numero 6, non allenarsi negli edit, quindi non renderseli personalizzati ed ottimali. Che cosa vi voglio dire? Fortnite, come vi dicevo prima, è un battle royale e quindi è caratterizzato principalmente dal building e dall'edit. Ragazzoni, mi raccomando, ci sono delle movenze per l'edit che dovete assolutamente farle vostre. Infatti, ad esempio, è molto utilizzato l'edit dei tre cubetti, come vedete. Assolutamente sia in box fight, sia appunto negli scontri, però ci sono alcuni piccoli accorgimenti che vi possono assolutamente svoltare la partita e che vi renderanno molto più veloci. Ad esempio, se volete editare i tre cubetti in base alla posizione in cui vi trovate con l'arma, ad esempio qua, ci troviamo a destra, sarà molto più semplice iniziare a fare l'edit da destra verso sinistra, quindi in senso anti-orario, come vedete qua, piuttosto che magari editare, voi vi trovate con l'arma a destra, ma posizionarla prima a sinistra e poi riportarla a destra per editare i tre cubetti, come vedete dall'immagine. Quindi mi raccomando, certi accorgimenti utilizzateli, certe piccolezze che vi permetteranno di avere degli edit veramente velocissimi e appunto di poter fare vittoria reale. Errore numero sette, settimo ed ultimo errore, non comprendere e capire come funziona il grid system. Cos'è il grid system? Non so se ne eravate a conoscenza, ma sapete un po' che su FIFA c'è il cosiddetto momentum, il cosiddetto bug del novantesimo, gli script. Ecco qua, il grid è una specie di momentum degli edit. Infatti va capito come funziona. Ad esempio, se voi vi trovate in una situazione in cui qualcuno vi spamma e voi avete già piazzato una costruzione, magari sta spammando con l'R, come in questo caso, e voi premete il tasto per spammare il muro, per proteggervi, il muro non verrà costruito perché la direzione è puntata verso l'avversario e in questo caso non verso il basso. Quindi ricordatevi che le costruzioni vanno piazzate, non le potete costruire dove volete voi. C'è un certo grid system che regola appunto tale costruzione e deve essere assolutamente compreso perché sennò failerete. Farete dei fail assurdi durante le costruzioni che vi faranno killare e perderete le partite. Bene, questi erano i 7 errori più comuni che la maggior parte dei player commettono su Fortnite. Mi raccomando, fatevi assolutamente sapere nei commenti qual è l'errore che commettete o che commettevate più spesso. Mi raccomando, ovviamente vi ricordo codice creatore nel negozio oggetti Joe-X97 e condividete questo video con tutti i vostri amici insomma per mettere in guardia da questi errori che assolutamente commetteranno pure loro. Quindi mi raccomando, diffondiamo questo messaggio per dei player assolutamente più forti e per un po' di competizione in più.